Voglio sapere perché mi ha assunto. Rimaniamo sulla narrativa dell'adulterio. È più sexy. E le bugie sono ancora più sexy. Ne ho sentite così tante questa settimana ad abbastarmi per una vita. Io ti ho assunto. Per indagare su mia moglie. Perché voleva indagare su di lei? Perché purtroppo non si fa gli affari suoi, ecco perché. Perché chiacchiera troppo, ecco perché. Perché fa troppe domande, ecco perché. Faresti meglio non seguire il suo esempio. Potrei dover assumere qualcuno che indaghi su di te. E chi dovrebbe farlo? Il suo uomo, Marduk? Forse è per questo che la gente continua a eleggermi. Perché porto sempre a termine il lavoro. Quindi tutto questo è stato fatto per la città? Tutto quello che faccio per questa grande città. Ho scelto te. Perché ti tengo in pugno.